Mancano più di mille infermieri tra strutture sanitarie pubbliche e case di riposo. Il nursing lancia l'allarme, mancano più di mille infermieri in Veneto tra strutture sanitarie pubbliche e case di riposo e mai come in tempo di pandemia queste carenze sono ancora più evidenti perché gli infermieri vengono richiesti anche negli hub vaccinali ma c'è anche bisogno di organico per rimpinguare le attività ordinarie sospese durante l'epidemia. Questa carenza è dovuta in sostanza alla mancata programmazione a livello nazionale per i numeri di accesso all'università a numero chiuso, devono essere assolutamente rivisti in tempi brevissimi, questo anno di pandemia evidentemente non ha insegnato nulla. Anche nell'area berica la mancanza di infermieri è un problema da risolvere. All'Urso 8 c'è una richiesta verso la regione di 100 infermieri, servono tutti assolutamente. La nostra preoccupazione è che con questo centro infermieri probabilmente dopo una protesta delle case di riposo dovremmo anche prestarne per assolvere i compiti di assistenza in alcune case di riposo della provincia. Questo è un modello che andrà a replicarsi in tutto il Veneto, la coperta è veramente corta. Il messaggio è al governo, il problema è a livello nazionale e il sistema rischia di implodere. È sostanzialmente un messaggio da fare al governo centrale perché la programmazione dipende dalle università e il Ministero della Salute deve dare delle indicazioni ben precise su quali sono i fabbisogni e non fermarsi ai fabbisogni di qualche anno fa.